Perchè non mi stai chiesto? Ma se si sa, no! Lui c'ha il suo potere, lui c'ha il tuo potere, non posso intervenire. Quello che ha parlato è un commissario di campo, che è gentile, sicuramente di Catanzaro. E' un commissario con un milione d'euro, ma tutti i partiti staccato, uno non sta all'assalto, uno non sta all'assalto. Grazie.